Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo insieme come fare la colomba tradizionale senza lattosio, perfetta per chi in casa ha delle intolleranze. Iniziamo a cucinare. Come prima cosa bisogna mettere 100 grammi d'acqua a temperatura ambiente nel nostro boccale. Aggiungiamo poi 15 grammi di lievito di birra fresco. Vi consiglio di sbriciolarlo con le mani così sarà più facile da sciogliere e amalgamare bene nel nostro livitino. Sciogliamo poi per due minuti a velocità 2. Possiamo guardare i dettagli di ricetta per tirarci avanti con qualche passaggio e preparare gli altri ingredienti. Ora per esempio prendiamo la nostra farina manitoba. Ed ecco qua il nostro risultato finora. Come potete vedere il lievito si è sciolto veramente molto bene. Ora aggiungiamo i 100 grammi di farina manitoba. Ora posizioniamo il misurino con il coperchio e mescoliamo per un minuto a velocità 3. Se preferite va bene anche due e mezzo non cambia molto. Dopodiché bisognerà lasciare il nostro risultato nel boccale da lievitare per circa 30 minuti. Impossiamo il timer sul nostro bimbi. Nuova funzionalità disponibile dall'ultimo aggiornamento. Settiamo i 30 minuti e ora aspettiamo che suoni. Mentre aspettiamo separiamo i tuorli dall'albume. Nel primo impasto infatti saranno necessari due tuorli e un uovo. Non preoccupatevi con i due albumi rimasti dovremo fare la glassa quindi alla fine si utilizzeranno tre uova intere. Passata mezz'ora il tempo sarà concluso e sarà l'ora di fare il nostro primo impasto. Aggiungiamo di nuovo la farina manitoba. Questa volta ne serviranno 150 grammi. Ma prima guardate che bello il nostro risultato. È lievitato veramente molto. Bellissimo più del suo volume. Aggiungiamo quindi i 150 grammi di farina manitoba. Aggiungiamo poi anche 50 grammi di zucchero. Io utilizzo questo semolato ma se preferite potete utilizzare anche quello di canna. I due tuorli. Ed infine anche l'uovo intero. Io l'ho rotto nel bicchiere avendolo già sporco. Così da pulire bene anche i tuorli rimasti sul bordo. Posizioniamo poi il coperchio con il misurino e amalgamiamo per 30 secondi a velocità 6. E ora guardiamo il nostro risultato. Dobbiamo però riunire tutto solo sul fondo quindi pulire bene la farina da tutti i bordi. Faremo l'ultimo passaggio e poi ci sarà la lievitazione. Come potete vedere per ora l'impasto è veramente molto morbido. Però non preoccupatevi è giusto così e poi diventerà perfetto. Aggiungiamo ora 40 grammi di olio di semi. Sarà consigliato quello di mais oppure di riso. Io ho utilizzato quello di girasole che è il classico che ho sempre in casa. Però se devo essere sincera il retrogusto si sentiva. Quindi vi consiglio un olio un po più delicato. Impassiamo poi per un minuto velocità sfiga. Ora bisognerà farlo riposare sempre nel boccale per circa un'ora o fino al raddoppio del suo volume. Ed ecco qua il nostro impasto prima della lievitazione. Proseguiamo ora con il secondo impasto. Vi assicuro che l'ultimo. Come prima cosa pesiamo circa 100 grammi di uvetta e 100 di canditi. L'uvetta bisognerà ammollarla per almeno 10 minuti in un'acqua tiepida così che non sia troppo secca. Ci spostiamo in un piatto riempita con acqua tiepida e la riempiamo con l'uvetta appena pesata. Dobbiamo anche sciogliere 10 grammi di lievito di birra fresco in circa 20 grammi di acqua morbida e tiepida. Quindi andremo a pesare anche questi per avere le dosi giuste. Passata l'ora di lievitazione possiamo iniziare con il secondo passaggio senza fare queste cose che erano preventive. Guardate che bello è lievitata davvero tantissimo. Ora dovremo aggiungere la farina manitoba, circa 100 grammi e 100 grammi anche di zucchero ed infine i 10 grammi di lievito che abbiamo fatto sciogliere nell'acqua. Puliamo bene la nostra tazzina aiutandoci con un cucchiaino. Dopodiché posizioniamo il misurino e amalgamiamo per 30 secondi a velocità 6. Ecco il nostro risultato, dovremmo riunire sul fondo con la spatola. Come potete vedere l'impasto sta diventando davvero molto elastico. Ora non ci manca altro che finire con degli aromi. Aggiungiamo ora un pizzico di sale, una fialetta di aroma di mandorla ed infine mezzo cucchiaino oppure se vi piace il sapore di vaniglia anche un intero di estratto di vaniglia. Se preferite potete utilizzare anche una fialetta di estratto di vaniglia al posto all'estratto oppure la polvere di vaniglia. Impassiamo poi per 3 minuti proseguendo però con il prossimo passaggio. Quindi versiamo a figlio attraverso il foro del coperchio circa 80 grammi di olio di mais. Io come detto prima utilizzerò sempre l'olio di girasole. Se preferite potete pesarlo in precedenza prima che iniziamo tempestare oppure utilizzare a occhio circa metà bicchiere. Se posizionerete il misurino si potrà anche svuotare l'intero contenuto perché il misurino da solo riuscirà a farlo filtrare e farlo entrare poco alla volta. Se invece volete essere più sicuri basterà farlo con calma e versarlo qualche goccia alla volta. Ed ecco il nostro risultato. Come vedete è veramente molto liscio. Ora bisognerà aggiungere circa 100 grammi di canditi. Quanti preferite? La ricetta sarebbe 50 ma secondo me sono veramente tanto pochi quindi ho raddoppiato sia l'uvetta che i canditi però poi è a gusto personale. Io ho utilizzato dei canditi misti che quindi contengono un po' tutti i gusti. Voi potete utilizzare o semplicemente un frutto candito o anche sostituire con l'uvetta tutta la quantità dei canditi. Oppure aggiungerci delle docce di cioccolato. Ricordatevi però di metterle prima un po' di farina così che non cadano in fondo all'impasto. Ci aggiungiamo poi anche la nostra uvetta che abbiamo tirato fuori dall'acqua dopo 10 minuti e strezzato per bene così che non lasci l'acqua. Io vi consiglio di passarlo anche con uno scotex così che assorbi veramente alla perfezione l'acqua in eccesso. Dopodiché posizioniamo il misurino e mescoliamo per 30 secondi velocità 2 anti orario. Infariniamo leggermente il nostro piano di lavoro e andiamo dopo che è finito di mescolare a rovesciarci sopra il nostro impasso. Dovremmo sistemare un po' meglio le uvette canditi che non sempre si mescolano alla perfezione quindi con calma bisognerà mescolarle al meglio. Una cosa aggiuntiva dovete controllare la consistenza della vostra colomba del vostro impasso dove deve essere molto elastica e anche un po' appiccicosa. Infatti aiutandovi con le mani infarinate potrete riuscire a lavorarla meglio. Se non ha questa consistenza allora forse avete fatto qualche errore durante i passaggi ma non preoccupatevi magari lievita all'attimino meno ma comunque sarà diventerà buona. Ora con calma cerchiamo di fare formare una palla mescolandola delicatamente e facendole fare alcune pieghe. Sarà solo un lavoro di assemblaggio migliore non bisognerà né impassarla né fare niente complicato solo cercare di formare una palla. Dopodiché la rompiamo circa due terzi per riuscire a metterla nello stampo della colomba. Bisognerebbe metterla in uno stampo da un chilo. Io ho preferito farne due da 500 quindi ho rotto l'impasto a metà e la metà la divido nuovamente in circa due terzi per fare un salcicciotto che sarà il corpo e il terzo rimasto bisognerà dividerlo nuovamente in due per fare le ali. In questo modo. Vi consiglio di utilizzare tanta farina così sarà più facile che non si appiccichi sulle dita. Dopodiché lo sistemiamo lievemente e passiamo alla prossima colomba. Anche in questo caso bisogna dividere l'impasto e ripetere lo stesso passaggio precedente quindi fare il corpo e poi le due piccole ali. Poi con calma puliamo sia il banco di lavoro che le mani che il bimbi e con l'impasto rimasto aggiungiamo dove manca. Dopodiché le dobbiamo coprire con la pellicola trasparente e lasciare in un posto lontano dalle correnti d'aria. Dovranno lievitare per circa 4 ore. Io ho avuto qualche problema non so se la temperatura della casa era troppo fredda ma dopo le 4 ore non hanno lievitato abbastanza nel mio parere. Per questo motivo ho tolto la pellicola trasparente e le ho riposto in forno. Essendo un ambiente più caldo perché comunque con la lievitazione producono anche loro del caldo, hanno lievitato in pochissimo tempo veramente di tanto. Quindi il mio consiglio è lasciarle almeno 4-5 ore se fosse necessario in un ambiente come hanno chiesto loro. Se vedete poi che non è abbastanza non preoccupatevi. Mettetela in torno ma il che vada anche a 50 gradi basteranno una ventina di minuti e li viteranno davvero bene. Nel frattempo facciamo la glassa. Il boccale dovrà essere pulito e asciutto. Ci aggiungiamo 50 grammi di mandorle pelate che poi dovremo andare a triturare con le noci. Aggiungiamo poi 50 grammi di nocciole. Dovrebbero essere tostate. 100 grammi di zucchero e dopodiché posizionando il misurino con il coperchio andiamo a frullare il tutto. Tritiamo quindi per 10 secondi a velocità 10. Ecco il nostro risultato. Ora dovremo andare a riunirlo con la spatola sul fondo e proseguire con l'ultimo passaggio. Andiamo ad aggiungere i nostri due albumi. E dopo aver posizionato il coperchio con il misurino andiamo ad amalgamare per 30 secondi a velocità 4. Dopodiché la nostra glassa sarà pronta. Bisognerà trasferirla in una ciotola e lasciarla con la pellicola trasparente in frigorifero fino alla fine della lievitazione, quindi per circa 4 ore. Ed ecco qua la nostra glassa. Ora vedrete anche la consistenza. È molto cremosa e davvero molto gustosa. Io non l'ho assaggiata ma veramente vi viene voglia, anche se poi sulla colomba è ancora più spaziale. Come potete vedere è scura, quindi sarà diversa dalla colomba classica. Queste sono le nostre piccole colombine che nel tempo si sono, si stanno lievitando. Ora sono passate circa 2 ore. Mentre aspettavo, io mi sono fatta una passeggiata. Voi potete fare quello che volete, tanto loro basta lasciarle da sole. Ora sono passate circa 3 ore. Sono passate 5 ore e ancora non sono lievitate al massimo, quindi ho deciso di cuocerle e lasciarle stare. Queste sono da vicino, comunque sono veramente molto molto belle. Ora basterà mettere la glassa che avevamo preparato in precedenza e guarnirle con della granella di zucchero e un po' di mandorle. Consigliano le mandorle pelate perché avendo la glassa molto scura così fa più contrasto. Però anche qua è a gusto personale, se preferite quelle scure, quindi non pelate, vanno benissimo. La glassa era pensata per una colomba un po' più grande, quindi se la fate da un chilo sarà un po' più abbondante. Se ne fate due da mezzo chilo, logicamente bisognerà spargerla un po' di più. Ma comunque a mio parere è abbastanza. Queste sono le nostre colombine poco prima di essere messe in forno. Sono davvero molto belle. E, barba trucco, guardate come si cuociono. Bisogna cuocerle a 170 gradi tra i 40 e i 50 minuti. Se vi sembra che stiano prendendo troppo colore, basterà metterci sopra un foglio di alluminio. Dopo circa 45 minuti le tiro fuori dal forno perché secondo me sono cotte. Come avete visto, anche se non erano totalmente lievitate, durante la cottura lievitano veramente tanto, quindi non preoccupatevi. Anche se vi sembrano un po' basse, provate a metterle in forno che di solito si gonfiano da sole. Come potete vedere sono veramente molto belle. Poi con una sola colomba, quindi avendo di più glassa a disposizione, non ci sarebbero neanche state tutte quelle crepe. Però io preferisco così, così se ne apre una e si finisce più facilmente. Guardate che belle, sono davvero molto molto belle. Io le consiglio perché sono buonissime, veloci da fare. Il tempo di lievitazione è tanto, però alla fine, calcolando solo i passaggi in cui bisogna essere presenti, ci si può organizzare in una giornata senza problemi. E ora guardiamo l'interno. Andiamo a tagliare la nostra prima fetta. Hanno consigliato di lasciarla freddare prima di tagliarla. Io non ho aspettato, quindi è davvero bruciante. Come potete vedere sembra vuota anche se ho aggiunto il doppio di canditi e uvetta, ma mangiandola sono più che sufficienti. Io però comunque vi consiglio di metterne 100 grammi 100 grammi, se vi piacciono. Guardate come è morbida, è davvero perfetta. Quasi più buona di una colomba in pasticceria. L'unico problema che io ho riscontrato è che poi basta veramente una giornata o due, se non conservata adeguatamente, diventa subito secca. Quindi vi consiglio di metterla immediatamente in un contenitore armetico. Come vedete è veramente bell'ivitata, bella e molto buona. Noi ci vediamo al prossimo video!